allora signora siamo arrivati a casa siamo arrivati a casa abbiamo speso tanto ma sono contenta ho tanta roba tanto adesso vediamo scarichiamo a me sembra che dietro lì è pieno quanto hai comprato tutto quello che serviva comprare 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 va bene adesso scarichiamo adesso scarichiamo si all'ombra ti vengo a tirare giù dai arrivo è atta che arrivo eccola abbiamo speso tutto macchina piena adesso andiamo a fare merenda vuoi le chiavi per andare in casa che è meglio magari si è senza chiavi sarà difficile arrivo a scaricare tutta contenta che è andata a fare la spesa ma come un treno ai vital davide a fare merenda vieni a far merenda noi adesso abbiamo comprato tanta robetta buona avevamo i soldi viene a far merenda che ne è che ne è di merenda ciao ciao ciao